ciao ragazzi bentornati sul canale finalmente sono qui per portarvi il nono talento di questa stagione vi avevo chiesto 300 like sull'ottavo talento e quindi vi ho fatto aspettare più tempo del previsto come avete potuto notare rispetto a tutti gli altri non ho messo il nome del giocatore nella descrizione questo per farvi gustare tutto il video voglio che guardate il video fino alla fine e poi mi direte le vostre considerazioni secondo me questo è un talento veramente straordinario che per i fantacalci a 8 a 10 può essere un giocatore decisivo quindi mi raccomando lasciate un grandissimo like già da ora a questo video iscrivetevi al canale se già non l'aveste fatto è il commentino stavolta lasciato dall'ultimo ditemi se siete d'accordo con la mia analisi o se non lo siete passiamo subito alla scheda e vi ricordo vi ricordo che sono attivi gli abbonamenti sia qui che sulla piattaforma viola allora il nome è Valeri Emanuele molti di voi staranno pensando chi cavolo è questo oppure è tutto qui allora questo è un terzino sinistro secondo me con un potenziale astronomico è un giocatore di quelli che può devastare un fanta 29 partite serie B 2251 minuti 3 gol fatti un assist come vi dico sempre le statistiche si guardano ma poi si guardano i giocatori già la media voto inizia a farvi capire di che tipo di giocatore parliamo 6,22 di media voto 6,43 di fanta media voto detto questo passo subito alla seconda scheda perché per un giocatore così ne ho realizzate due di schede ovviamente con le sue skill grande dinamicità questo perché è un giocatore veramente devastante soprattutto in fase offensive infatti ci ha messo anche bravo in entrambe le fasi perché se andate a guardarci tanti video vedrete che anche in fase difensiva si fa valere ma sulla tre quarti offensiva è veramente devastante è un giocatore che sa far gol, sa fare assist, sa saltare l'uomo ed è veramente un moto perpetuo infatti con la grande dinamicità è proprio perché è veramente un'ina di Dio è un giocatore che mi ha sorpreso veramente tantissimo ho aspettato un po' prima di portarlo perché era tra i nomi che volevo portare per i primi però non volevo portare troppi giocatori forti da subito anzi forse questo dovevo aspettare un po' di più ci ho messo anche lanci lunghi perché quando parte dalla difesa è uno che ha anche un lancio importante perché tantissime volte vede il compagno anche a 40-50 metri alza la testa e lancia la palla veramente incredibile cioè questo è un giocatore ragazzi completo sono straconvinto che un giocatore del genere arriverà in nazionale l'anno scorso vi avevo detto di Parisi che era un bel giocatore l'anno scorso di Parisi se vogliamo tolto questo canale non so in quanti avevano parlato di Parisi ma questo secondo me è anche superiore perché rispetto a Parisi è più completo è più completo vi dicevo dei lanci lunghi non solo quello gli danno la palla e lui vede il gioco non dico come un centrocampista però è uno che sa far girare la palla e spostare la palla da una parte all'altra ci ho messo tiro potente perché veramente può gonfiare la rete in un modo straordinario anzi vi dico la verità sono stupito che abbia fatto solo 3 gol in 29 presenze secondo me un difensore così può arrivare a cifre importanti la cremonese l'anno scorso secondo me aveva una montagna di giocatori forti e lui è sicuramente uno veramente forte sul tiro potente l'ho messo insieme a calcio e le punizioni perché ne ho visto calciare qualcuna c'ha la dinamita al posto del piede cioè veramente questo è un giocatore che potrebbe fare le fortune al fantacalcio infatti anche ieri ne ho parlato di un talento ovviamente senza dire il nome e tanti mi dicevano centrocampista attaccante perché questo? perché siamo sempre convinti che è l'attaccante che ti fa vincere il fantacalcio è il centrocampista da un certo lato posso anche capirlo però mettiamo caso che avete un bel modificatore un giocatore anzi andiamo un attimo anche alla scheda di prima un giocatore che ha una media voto di 6,22 è vero che la serie B ma secondo me il salto non è chissà quanto determinante e ricordo che queste medie voto sono sempre di gazzetta 6,22 mi permette anche di andare spesso a prendere il modificatore fanta media voto con i bonus che potrebbe portare potrebbe salire di tanto e in più se avete anche bonus differenziati e secondo me potrebbe essere anche un DS al mantra veramente straordinario devo dire che su questo nome ragazzi ci metterei la mano sul fuoco ecco non l'ho mai detto perché vi porto sempre magari tutte le statistiche di questo giocatore forte questo lo prenderei tanto di budget ora ci arriviamo anche al budget ai potenziali bonus però qui davvero io come si dice ci punterei casa su questo nome sono stragovitto che possa arrivare in nazionale a me ha stupito in un modo assurdo l'unico neo se vogliamo proprio essere fiscali su Emanuele Valeri sono le ammunizioni 8 in 29 partite possono essere un po' tante questo perché è uno come dicevo che fa anche la fase difensiva in modo importante e spesso si butta scivolata e magari a volte non prende la palla però è veramente un'inezia rispetto a tutto quello che ho visto di questo giocatore io davvero è un giocatore che vi dico punterò in tutti i Fanta poi ovviamente già lo so una volta che lo sponsorizzo così con gli abbonati sarà difficilissimo prenderlo magari con i Fanta Youtuber se magari non seguono così tanto il canale proverò a prenderlo assolutamente assolutamente proverò a prenderlo quanto budget stanziare per Emanuele Valeri io sono convinto che voi che fate il Fanta Calcio con i vostri amici e che magari non lo conoscono potete riuscire a prenderlo anche da 1 a 5 crediti indipendentemente dal budget magari 500, 1000 con pochissimi crediti lo portate a casa non credo che in tanti sponsorizzino un terzino sinistro sui bonus io sono molto anzi torno alla prima scheda sono molto fiducioso che possa migliorare i tre gol fatti e soprattutto gli assist quindi io prevedo per lui un minimo di tre gol e anche magari che possa farne di più sugli assist sono convinto che ne possa fare di più perché veramente questo è un martello pneumatico cioè attacca con una forza impressionante nonostante non sia un gigante è uno veramente tra virgolette cattivo è uno sveglio è un giocatore che mi piace veramente un botto se voi se io fosse un direttore sportivo di una squadra magari fino fino al Sassuolo una squadra anche come la Fiorentina io questo giovane lo comprirei subito poi magari se ho un terzino sinistro già affermato e quindi magari non voglio puntarci subito lo compro lo do in prestito ma questo è un giocatore che arriverà vi dico vi dico questo prima poi di chiudere avevo il preventivo di fare un video su Giuseppe Ambrosino che l'ho contestato su Instagram l'11 giugno purtroppo non mi ha risposto perché altrimenti avevo portato già un altro talento che magari non è per il fantacalcio però a me piacciono i giocatori forti come l'anno scorso ho portato Zaleschi che non doveva essere un titolare poi sappiamo tutti come è esploso Zaleschi e Ambrosino secondo me è un altro giocatore che nei prossimi anni ne sentiremo parlare lui è un under 19 anche della Nazione Italiana e proprio due giorni fa ha fatto un gol è una prestazione soltuosa e ne avevo parlato anche sulla piattaforma viola nella live infatti vi invito a seguire le live sia qui su YouTube ma anche sulla piattaforma viola perché parleremo sempre di talenti anche quando non sono magari subito pronti per il fantacalcio niente ragazzi vi ricordo lasciate un like a questo video se vi è piaciuto ditemi nei commenti ora cosa ne pensate di Valerio Emanuele ditemi magari potete anche scrivermi questo non capisce niente di fantacalcio però io vi dico che sono convinto che questo nome se se riesce a fare le sue presenze in Serie A questo ragazzo è veramente fortissimo e niente ragazzi iscrivetevi al canale e al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti